Ma voi lo sapete che con tre mele potete fare questo. Un burro dolcissimo fatto solo con la frutta. Perfetto da spalmare sul pane o per preparare delle crostate furbe come questa. Prendiamo tre mele e le priviamo della buccia. Con il pela patate ci metterete un attimo. Mi raccomando, le bucce non le buttiamo. Tagliamo le mele a metà e le priviamo del torsolo. E poi le tagliamo a tocchetti. Più o meno di queste dimensioni. Prendiamo una pentola capiente e ci versiamo all'interno le mele. Succo di limone e se volete un po' di cannella. Ne basterà un cucchiaino. Mezzo bicchiere d'acqua, coperchio e ci spostiamo sul fuoco. Dove le lasceremo cuocere fino a quando non raggiungeranno questa consistenza. Ora ci spostiamo dal fuoco e le frulliamo con il mini peamer. Otterremo una crema che riporteremo sul fuoco e faremo raddensare per qualche secondo. Infine la trasferiamo in un vasetto di vetro. Ed ecco qua il nostro burro perfetto per tutta la famiglia. Allora, chi vuole la ricetta della crostata furba?